Approvata la legge contro il ticket redemption, vietate ai minori le macchine da gioco che rilasciano punti per l'acquisto di premi. Cambiano le norme sulla partecipazione, sarà istituita la figura del presidente dell'autorità per la partecipazione. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Monitor Consiglio. Nella sua ultima seduta il Consiglio regionale della Toscana ha affrontato il tema della ludopatia ed ha approvato all'unanimità la nuova legge contro il cosiddetto ticket redemption. Sarà cioè vietato ai minori l'uso delle macchine da gioco che al termine della partita restituiscono al giocatore dei punti sotto forma di ticket che possono essere accumulati e utilizzati per l'acquisto di premi presenti all'interno delle sale giochi e dei centri commerciali. Sentiamo le interviste. Allora è un divieto, è un divieto dall'utilizzo di questi dispositivi che rendono questi giochi ticket tagliandi che troviamo nelle sale giochi per i minori. Per i minori perché ci troviamo di fronte a ragazzi deboli e che più giocano si crea un meccanismo gioco-cratificazione, un meccanismo subdolo. Subdolo perché il ragazzo non ha le capacità per individuare questo rischio, gioca, spende, ticket per poi ottenere dei gadget di un rilievo minimo, mentre si crea un sistema che poi il ragazzo cresce e diventa un elemento strutturale nell'adulto e quindi è una forma di prevenzione primaria per evitare questi grossi problemi che abbiamo nella società contemporanea. Permettetemi di dire due parole sulla mia grande soddisfazione perché mi sono avvicinata a questo testo con grandi dubbi, non sapevo come sarebbe stato recepito, è stato invece recepito all'unanimità. Sono pochi articoli, se voi leggerete la legge sono pochi articoli, ma non vi nascondo che il processo è stato molto lungo perché è passato in Commissione Sanità, prima nella Commissione Sviluppo Economico, però ha trovato il consenso di tutto il Consiglio regionale. Riteniamo con questa normativa di fare un regalo a tante mamme e soprattutto ai nostri figlioli che sono questi ragazzi tanto deboli che purtroppo non abbiamo il tempo di controllare durante le 24 ore i loro pomeriggi, possono raggiungere queste sale giochi e purtroppo non essere controllati. Speriamo poi che ci siano i controlli. Noi proponiamo questa legge, a questo punto ci sarà un regolamento che definirà più nello specifico gli aspetti più tecnici, c'è anche ovviamente la sanzione e poi ci dovranno essere ovviamente i controlli. Noi più di così non possiamo fare. Siamo stati tutti favorevoli, quindi all'unanimità, siamo contenti che prenda corpo questa proposta di legge perché oggettivamente i giovani vanno tutelati e come ho detto in aula potrebbe essere una proposta di legge, quindi una legge di portata rivoluzionaria perché se si fa un buon uso di questa legge si fa capire ai giovani l'importanza di non giocare e di non diventarne schiavi perché gli schemi psicologici sono estremamente labili e fini da parte di chi inventa questi giochi di modo che i ragazzi restano in qualche modo invischiati e questi ragazzi poi crescono, quindi potrebbero essere i futuri uomini che in qualche modo evitano di rimanere con lo stipendio lasciato nei vari giochetti perché anche il grattevinci che il nostro Stato propone quando ti fa uscire un numeretto che è vicino a quello che te hai pensi di essere stato solo sfortunato, in realtà sei rimasto invischiato nella loro trappole. La legge importante inizia il proprio percorso legislativo quando io ero Presidente della Commissione Sanità, quindi un test al quale sono particolarmente affezionato, ho fatto un percorso, si è strutturata, periodicamente viene aggiornata, vengono reinseriti altri elementi di massima attenzione soprattutto rispetto ai minori e credo che queste siano delle attenzioni doverose che il Consiglio regionale fa in una logica di prevenzione, questo è lo spirito della legge, una legge che è datata dalla scorsa legislatura ma che ha dimostrato di produrre degli effetti importanti rispetto alla logica della prevenzione, serve molta informazione, comunicazione, ovviamente servono delle sanzioni, quindi una legge che si struttura con il passare del tempo alla quale sono e rimango particolarmente legato. È una legge che mette un altro tassello in quella che è la lotta alle ludopatie, cioè il ticket redemption che sono una forma particolare con cui le vincite vengono trasformate in oggetti di piccoli valore ma che danno la gratificazione soprattutto ai giovani, ai ragazzi, è diventata una legge e questo è un altro passaggio importante appunto. Quello che dobbiamo fare, ci abbiamo molto lavorato anche nella scorsa legislatura con Andrea Quartini, nostro esponente regionale oggi deputato ed esperto in tutto quello che sono le dipendenze, è cercare di combattere tutte le fonti di questo che è una vera e propria piaga sociale. Un'altra cosa su cui dovrà essere fatto un grande lavoro e si sta facendo ad esempio sono i giochi online, quelli che invece danno semplicemente degli omaggi, dei regali che sono delle gratificazioni che possono essere trasformate in qualcosa di economico. Insomma la lotta alla ludopatia è qualcosa che deve essere fatta ogni giorno e soprattutto ha bisogno di controlli, controlli e sanzioni esemplari per chi mette a repentaglio il sistema sociale e anche i nostri giovani con questi che sono né più né meno, che non innocui giochi ma avere proprie induzioni alla dipendenza. Cambiamo argomento, parliamo di partecipazione perché sono cambiate le norme regionali. Il Consiglio ha infatti approvato tre proposte di risoluzione dopo l'informativa dell'assessore Cioffo sul lavoro di modifica della legge regionale. Queste le novità. La Giunta sarà impegnata a riferire periodicamente al Consiglio, ad armonizzare la normativa con quella sul governo del territorio e soprattutto ad istituire la figura del Presidente dell'autorità per la partecipazione. Anche in questo caso sentiamo le interviste che abbiamo realizzato. Nel corso del 2022 sono state 34 le richieste di sostegno presentate all'autorità per la partecipazione, di cui 20 sono state finanziate per un totale erogato di oltre 320 mila euro, una cifra di poco inferiore a quella dell'anno precedente. Si tratta soprattutto di progetti collegati alla rigenerazione urbana che per la gran parte, oltre il 76%, sono state presentate da parte degli enti locali. L'occasione dell'illustrazione dell'attività dell'autorità per la partecipazione è stata opportuna anche per porre l'accento su alcuni aspetti. Da una parte l'adeguamento della legge regionale 46 del 2013 sulla partecipazione, rispetto alla quale è in discussione una comunicazione da parte della Giunta regionale e che anticipa una riforma normativa che presto approderà nell'aula del Consiglio regionale. Dall'altra parte una riflessione sull'istituto del dibattito pubblico regionale e la necessità di garantire coerenza di questo istituto con l'omologo previsto a livello statale. Si è posto poi l'accento sulla necessità di garantire un'adeguata formazione del personale dei comuni rispetto ai percorsi partecipativi, soprattutto dei comuni più piccoli della nostra regione che non potendo vantare grandi risorse umane hanno necessità di una maggior specializzazione del personale presente e per questo il Consiglio regionale ha votato una proposta di risoluzione a maggioranza nella quale oltre ad auspicare una revisione della legge sulla partecipazione dell'istituto del dibattito pubblico regionale, si è posto l'accento sulla necessità di incentivare le forme di monitoraggio degli esiti dei percorsi partecipativi sviluppati a livello regionale e dall'altra parte di garantire un maggior coinvolgimento dei piccoli comuni nei percorsi di partecipazione attraverso la formazione del loro personale. La Lega vota contro semplicemente perché siamo piuttosto scettici sul fatto che gli strumenti di partecipazione non siano ancora debitamente conosciuti e utilizzati specialmente da parte dei privati. Consideriamo i dati, sono state accolte di 34 richieste di progetti partecipativi, 20 di cui uno solo di soggetti privati. Non abbiamo neanche una richiesta di dibattito pubblico, perché esiste naturalmente il progetto partecipativo locale ed esiste il dibattito pubblico che purtroppo non trova attuazione in Toscana, abbiamo necessità di una riforma in questo senso. Non solo, purtroppo nel 2022 ci sono state province che non hanno proprio visto l'utilizzazione di strumenti partecipativi, territori provinciali intendo, Prato e Massa Carrara. Quindi al di là delle buone intenzioni, di tutte le dichiarazioni di intenti, che le cose vadano bene, cerchiamo di dotarle di risorse, di personale, cerchiamo di farli utilizzare, di farli conoscere questi strumenti della partecipazione. Perché vedete, noi li abbiamo mutuati da altri ordinamenti, li abbiamo presi da altri ordinamenti giuridici come quello francese, perché avevano un scopo nella ragione di evitare il contenzioso amministrativo. Prima di far partire un'opera pubblica, ad esempio, sarebbe necessario che si conoscessero i pro e i contro. Io, nell'arco della mia attività consigliare, sono sempre più convinto che la partecipazione possa essere importante, naturalmente bene regolamentata, ma che vada assolutamente nel senso di una partecipazione reale. E anche qui devo dire che l'autorità per la partecipazione non ci dice quanti cittadini, quanti associazioni partecipano a questi processi partecipativi. Cerchiamo di non avere un approccio meramente formale, ma un approccio sostanziale. La partecipazione può essere importante, quella politica dal basso deve tornare e i cittadini devono essere coinvolti. I percorsi di partecipazione sono favoriti da una legge toscana. Da parte nostra più volte abbiamo sollecitato un miglioramento del quadro normativo rispetto ad un principio cardine. La partecipazione è corretta, è doverosa, è opportuna, è importante, però non deve mai ostacolare processi decisionali. È fondamentale la dimensione dell'ascolto. Abbiamo visto che in molti casi l'ascolto diventa importante quando attivato dalle amministrazioni comunali o anche dai cittadini stessi, però è evidente che dobbiamo sempre favorire il processo decisionale. Quello è il compito del Consiglio regionale e quella è la funzione della politica e delle istituzioni. Quindi noi stiamo su questo contesto, però ci portiamo ai nostri rilevi critici per cercare di migliorarne il quadro. Ne stiamo discutendo con la maggioranza. La partecipazione è uno strumento che la regione toscana ha e soprattutto possiede una legge tra le migliori che abbiamo in Italia, pur se risalente al 2013. Nel documento preliminare che verrà presentato oggi si parlerà anche di come modificarla per migliorarla, ma la verità è che bisogna capire quante volte la regione e gli enti locali utilizzano questo strumento, come lo utilizzano, cioè se è solo di facciata per delle formalità oppure se viene implementata nel modo più corretto e soprattutto quanti di essi lo usano e quanto vengono ascoltate. Tra i due delle questioni che hanno riguardato la partecipazione sono state la darsena Europa e la questione dei gessi rossi di Scarlino. Sappiamo tutti quali sono gli esiti di queste due situazioni. Quello che viene da domandarsi guardando il dietro nel tempo e negli anni a quando le partecipazioni sono avvenute è se sono state ascoltate le criticità che all'epoca la popolazione, associazioni ambientaliste e altri sollevarono, perché se tutto si deve ridurre semplicemente a un ascolto che non dà luogo poi a nessun'altra forma di proattività, allora la partecipazione per certi versi se ne può fare a meno, perché non è questa la partecipazione che cerchiamo e invece serve che venga ben rifinanziata e che venga portata avanti, soprattutto dagli enti locali. L'ultimo esempio positivo è stato quello del referendum di Empoli che appunto sul filo del rasoio sta riuscendo a essere portato avanti. Nell'ultima seduta del Consiglio regionale ci sono state alcune interrogazioni sul servizio di trasporto pubblico alle quali ha risposto l'assessore Baccelli, tra queste quella del consigliere Landi sull'indice di gradimento del servizio. Sentiamo. Ho presentato un'interrogazione sul gradimento dell'utenza per quanto riguarda trasporto pubblico locale su gomma, cioè per chi prende l'autobus in sostanza e da qui emerge che da un certo punto di vista sembra che vada tutto bene. In realtà i reclami sono tantissimi perché già dalla fine dello scorso anno fu proprio l'assessore a dire che moltissime erano cose saltate, circa una metà proprio nella città di Firenze e questa situazione è andata aggravandosi fortemente con i lavori della tramvia. Allora come si fa a gestire un servizio pubblico senza programmare? Sapevamo tutti che ci sarebbero stati i lavori della tramvia su Firenze, sappiamo tutti che saltano le corse esterurbane, le zone costiere a valenza turistica, sulle isole, ma non si programma di anno in anno e tutti gli anni ci troviamo a stagione iniziata a dover dire e affrontare le stesse problematiche, le stesse cose. Su Firenze poi è diventato, prendere l'autobus è diventato quasi andare a fare un giro in un girone dell'inferno, ma è veramente così? Allora una proposta può essere che magari le segnalazioni che devono essere fatte da parte degli utenti possano anche essere agevolate nel mettere il numero verde oppure un riferimento anche sui biglietti dell'autobus o anche sulle app dove si va a prenotare e a comprare il biglietto. Dobbiamo monitorare veramente la situazione, su Firenze chiaramente la situazione è insostenibile, chiaramente le responsabilità riguardano anche l'amministrazione comunale di Firenze, però chi ne paga sempre le conseguenze sono gli utenti e coloro che vogliono prendere l'autobus. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.